Mentre a Lecce il cantiere per la realizzazione di un centro residenziale dove curare le pazienti che necessitano di cure H24 è ancora fermo, ci sono diversi genitori salentini che continuano ad affrontare significative spese per poter curare le proprie figlie fuori regione. È il caso di Angelo che dal Salento ha dovuto ricoverare per diversi mesi la propria figlia in Sardegna dove gli avrebbero anche sbagliato la cura e poi trasferirle in una struttura della Toscana dove è attualmente ricoverata. A Lecce invece nonostante gli oltre 2 milioni stanziati dalla regione per allestire 12 posti letto di ricovero nell'ospedale Vito Fazzi e per ristrutturare il centro di urno attivo da molti anni nell'ex office di Lecce i cantieri sono fermi, nessun operaio è al lavoro come constatato dal sopralluogo effettuato dal consigliere regionale Paolo Pagliaro. Ora essendoci due strutture pubbliche, Lecce e Altamura, la regione ha optato per una struttura privata, accreditata e ha, dico io, dimenticato le strutture pubbliche. Strutture pubbliche che vantano un'esperienza per Lecce forse trentennale. Una struttura aperta, attiva avrebbe facilitato voi genitori nella cura di vostra figlia. Nel caso di mia figlia attualmente si trova a Firenze dopo aver fatto un percorso di 18 mesi in Sardegna sbagliato. Noi siamo costretti a viaggiare, i cosiddetti viaggi della speranza, fuori dalla Puglia perché purtroppo non c'è niente in Puglia. Con disagi per le ragazze, per le famiglie, problemi economici perché non è vero che una ragazza una volta che va in una struttura accreditata sta lì e basta. Nel caso di mia figlia, mia figlia continua a pagare i farmaci, postando in una struttura accreditata. I disagi nostri sono, per intenderci, mia moglie adesso è fuori casa dal 16 giugno. Quindi mia moglie sta attualmente a Firenze con mia figlia. In precedenza io sono stato otto mesi a Verbagna, sono stato tre mesi a Pontremoli, sono stato un mese a Brusson. Cioè praticamente mi stanno facendo girovagare tutta l'Italia.